Eccoci qua, allora volevo fare un augurio bellissimo al festival Sciorrotini 2014 dal 31 luglio al 3 agosto e certo mi sembra strano che ad Augusta si facciano le cose di Sciorrotino hanno Sciorrotini sarebbero i film quelli corti, allora tanti auguri e forza Augusta, forza, forza tante cose sempre più belle da organizzare in questa città meravigliosa ciao e in bocca al lupo